Il giorno di Varese-Catania e nell'ambiente rossazzurro l'adrenalina è tornata alle stelle. Il Catania sa di avere una grande occasione per vincere la prima partita della stagione fuori casa, ma Calio e compagni sanno anche che niente è così semplice come sembra, al di là dei noti problemi che hanno portato il Varese in fondo alla classifica e che non hanno permesso ai Lombardi di concentrarsi serenamente solo sul campionato. Il Catania quindi proverà ad approfittarne, ben sapendo di essere ancora convalescente malgrado la vittoria contro l'Avellino, e Marcolin proverà per questo a giocarsela a viso aperto sin dall'inizio. L'unico vero problema pare sia costituito dalle condizioni di Gillet, ancora debilitato dal virus influenzale che lo ha colpito nei giorni scorsi, e per questo inirizzato verso la panchina a beneficio di quel terracciano che domenica scorsa è stato il protagonista principale del successo contro i Campani. La difesa a quattro sarà confermata rispetto a quanto si immaginava da giorni, con nel prete a destra e mazzotta a sinistra, Schiavi e Ceccarelli al centro. Il rientro lampo di Oger permetterà poi a Marcolin di schierarlo regolarmente al fianco di Rinaud e Chodone con quest'ultimo che quindi giocherà in linea mediana. La mossa coraggiosa infatti riguarda proprio l'attacco che sarà più offensivo che mai, perché Marcolin ha ceduto alla tentazione di sostituire Rosina con Castro, che quindi giocherà nel tridente in posizione leggermente più arretrata insieme a Calaio e Maniero.